Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! E' veramente deluda perchè ha appena lavato il pavimento Quindi per favore... Quali un bel content in live? Pulare il pavimento? In realtà sta ridendo ma ne ho manco visto comunque E' Alessandre E' io Alessandre No, tu sei Alessandre E mi ha preso un po' arrabbiato Tiene l'asciuto mano? Alessandre è la... 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 Sempre in colpa sto io, cioè... Oh, tu sai... Io non voglio più guardare tutti questi ragazzi in giro Perché qua è tutta una sorpresa La sorpresa... 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 Riugnione tra maschi, riugnione tra maschi Vigliale bravo... Ah, eh... Rosso, tu non puoi mai venire Alessandre è un ragazzo molto molto timido Alessandre è un ragazzo timido Alessandre è un ragazzo veramente timido e... E siamo arrivati a questo punto E siamo arrivati a questo punto... Alessandre è un ragazzo... Alessandre è unheen È un lembo Si è avvicina da me Fa bolloso E ci sono state catti Cosa ha fatto? È iniziata cantare canzoni in brasiliana Vabbè stiamo parlando la cazzo da brazellero Non l'ha mai fatto Non l'ha mai affasciuto Cosa ha mai fatto? Ha cantato con un c***o sporco di merda Ho cantato con un c***o sporco merda È che ha? Alexia è due mesi Alexia è stato due mesi che è innamorato che è stato ammurato ed è... cosa dire a chi di chi è stato ammurato? è meglio di sapere ma te lo diamo la prossima volta te lo diamo la prossima volta rimarrà un segreto Alexia è innamorato di una altra persona ma è un uomo una volta non posso però no 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 abbassa la musica no 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 stiamo fuori stiamo fuori noi noi maschi è successo un casino ragazzi con calma ragazzuoli che è successo fra c'è un aperitivo è successo un casino che è successo fra perchè avete venuto a bere un trinitone subito? perchè? chi cazzini ma se mangiamo tutti un pezzo di dolca muoviti che coglione non ci credo che fottuto coglione ha smattuto col vetro stavo cadendo chat spodella jenny la polita è diventata la polita è diventata la polita è diventata la polita è diventata e scappa sul vetto ragazzi ho lasciato la mia e non mi fanno su paolo innamorando conoscendo che stanno conoscendo si stanno ricambiando come lo scoperei ragazzi noi no si stanno conoscendo te le si preso nel mio pantaloncino ancora una volta barra vabbè no quello giuro subiamo al pomizio per ok contro il mio par vai 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 facciamo un piccolo check bar vediamo il bar no no moderatori? bar? moderatori? bar? moderatori? non lo so cosi si cosi sui tuoi piedi proprio eh ma qua si cammina così ma felipe nero fagliela mettere la musica è già tutto ok arriviamo vieni vale vieni si ma vieni qua vieni qua stiamo andando a piedi a milano capisco uomo di deus venite venite qua venito? tutto a norma comunque ecco la discoteca che vi dicevo vieni qua mi cadono i pantaloni toccando ci siamo 58 ragazzi giuro fug fug puoi entrare fug dai no c'entro ci manca poco ma non ci abbiamo neanche uno spumante guppa? manca fu Netz guy scarica l'audio del champagne ch schema luigi Mangiamo tutto un pezzo di torta, muoviti Che coglione, non ci credo Che fottuto coglione Dai, vieni qua un attimo Alice, vieni anche te qua un attimo Cosa ha fatto? Guardi che, Carletto Carletto, non l'hai ancora inquadrata Dai, in quanto sei Vieni qua con noi, facciamo un piccolo cappello L'ultimo giorno qua a Los Angeles Occhio, che lì veramente mi fa una paura abissale Mettiti davanti da noi No, dici che non mi hai ripreso il cuore proprio in pieno Aia, cazzo Stavo cadendo Ah, ti ha staventato Oh, l'axaco Ah, l'axaco è un ucciolo grosso Praga, dicevamo, c'era vero Ma anche lei è un l'axaco Scusate, finisci di questa cosa Anche lei, non mi interessa Oh, prendiamo tutto Hai sentito? Oh, hai sentito, Alessis, non c'è no grosso È anche son felice Eh, eh Eh, dai Posso apertare la codica d'altro Doma, ssh, 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 ssh Che mi bacca E' una signora Sei qui, dicevici così a casa mia Ma, oh No, la gente ti tocco Con la Red Bull, succede questa roba Ma questa è la follia fenana Ma, è tu che caccia? Cos'è? Ah, metti il telefono di fianco per favore vediamo che commentano le merde faccio lavati quella maglia ragazzi la porta a prenderlo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 2 1 cami tocca a te vieni cami vabbè quando ti butti buttati i pantaloncini quando ti butti ti inquadra perchè devi far vedere che ti butti almeno c'è il content no tutto all'indietro peggior comprando la mia vita comunque se mi facessi questo video lo giuro nooo fermo Anna no vaga che bella stasera Anna Anna chi? Anna chatii eh guarda non è vabbè perchè dovrebbe essere lì Anna sono qui sono qui hai nelle docce oh guardate gatti